Signora Commissaria, Signor Sottosegretario, Signor Presidente della Regione, Signor Sindaco, Magnifica Elettrice, Direttore Generale, Pergiatissimi Presidi, Direttori, Professori, Dirigenti, Personale Tecnico Amministrativo, Gentilissimi e Gentilissime Colleghe Rappresentanti, studentesse e studenti, autorità tutte, aziende e società presenti. Sono veramente emozionata e grata per essere qui oggi a rappresentare il corpo studentesco del Politecnico di Milano. È per me un momento di notevole importanza e ringrazio la Magnifica Elettrice per averne dato occasione. La mia mamma da anni mi dice che sono innamorata del Politecnico perché quando ne parlo mi brillano gli occhi. Nutrò molta riconoscenza per aver avuto l'opportunità di compiere qui i miei studi e di fare parte di questo Ateneo. Osservando nella storia che lo costituisce e guardando alla strada che intende solcare verso il futuro, ne sono estremamente orgogliosa. Il Politecnico di Milano crede nella sostenibilità ambientale, inclusiva e sociale. Il che significa avere la sostenibilità come elemento chiave dell'offerta formativa e della ricerca scientifica. Significa garantire equità di accesso e opportunità di studio. Ma tutto questo risulta complesso all'interno del sistema universitario italiano che si caratterizza per una scarsa attrattività, per un finanziamento pubblico ben sotto la media Ocse e per i riflessi di una politica di distribuzione delle risorse che non valorizza le università. Sebbene io sia qui a rappresentare quasi 50.000 studenti e studentesse del Politecnico di Milano, intendo essere la voce di tutti coloro i quali non hanno avuto neppure la possibilità di iniziare un percorso di studi. Signor Presidente Fontana, ho saputo che potrebbero esserci dei tagli sui fondi destinati al diritto allo studio universitario. Al Politecnico fortunatamente abbiamo la possibilità di assicurare con fondi interni molto di più di quanto garantiscono insieme lo Stato e Regione Lombardia. Ma a quale costo avviene tutto questo? Un compromesso detestabile nella sostanza. Utilizzare fondi derivanti dalla competenza di gestione e dai risultati di ricerca e di fiducia dell'Ateneo, per ottemperare ad una mancanza strutturale di Regione Lombardia e dello Stato italiano, ci obbliga, nel vincolo di milioni di euro che dovrebbero erogarci, a ridurre in modo impattante la nostra crescita e dunque la ricerca e dunque il progresso. Gli ascensori sociali non funzionano e la formazione oggi non è la priorità di nessuno. Tagliando i fondi per il diritto allo studio siete responsabili di non permettere a noi giovani una vita migliore e conseguentemente alla società di crescere. Io sono transfeminista perché combatto per la tutela e l'affermazione dei diritti della comunità LGBTQIA+, e per le politiche di genere. E non sfuggirò al dichiarare oggi, dinanzi a questa platea, quanto ancora ci sia tanto da fare nel nostro Paese. Dal bilancio di genere 2023 del Politecnico di Milano si evince una grande differenza nei contratti a tempo indeterminato. Il gender pay gap, altro indice cruciale di equità, continua a persistere. Questo divario deve essere eliminato e per riuscirci si deve partire dall'istruzione primaria. Tra cinque giorni sarà la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Secondo il Sole 24 ore, dal primo gennaio al primo ottobre 2023, ci sono state 90 vittime donne. Di queste, 47 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner. Questi numeri sono aumentati. Giulia Ciacchettin era una studentessa come me. Era una studentessa di ingegneria, come noi. Venerdì si sarebbe dovuta laureare. Giulia non si è laureata. Il suo corpo è stato ritrovato l'altro ieri vicino al lago Barcin. Per l'ennesima volta un uomo non ha accettato la fine della relazione e ha deciso di strappare a Giulia ciò che aveva di più prezioso. La vita. Dobbiamo agire e contrastare la violenza di genere. Educate i vostri figli ed educate voi stessi. Non siate indifferenti. Cogliete le sfumature e le richieste di aiuto. Una vostra amica, una vostra collega, vostra figlia può essere una vittima. Qual è la ragione per cui lo sottolineo con fermezza oggi? Perché alla radice di tutto si pone sempre l'istruzione e abbiamo oggi più che mai bisogno di una rivoluzione culturale. Per attuarla è necessario investire in un ruolo diverso della donna nella società rispetto a quello imposto dal sistema patriarcale. Investire nella formazione e nelle università ha un ruolo fondamentale. Permettere a più persone e a più donne di accedere ai gradi più alti degli studi anche nelle materie STEM rappresenta uno strumento per affermare la propria persona e la propria indipendenza. Signor Sottosegretario Barachini, lei è qui in rappresentanza del Governo della Repubblica Italiana. Un Governo che ha dimostrato più volte atteggiamenti ambigui sulla tematica dei diritti civili. Il 2023 è l'anno in cui Ilga Europe classifica l'Italia al 34esimo posto su 49 nella classifica dei paesi europei per le politiche a tutela dei diritti umani. L'esclusione sociale e l'avversione homo-bitransfobica, oltre ad impattare sul destino di tutte le vittime e distruggere i principi su cui sono basati gli stati liberi delle democrazie occidentali, rallentano in modo determinante lo sviluppo del sistema paese. Con gioia ed orgoglio voglio sottolineare che il Politecnico di Milano non solo ha già introdotto le carriere alias per tutto il corpo studentesco, ma intende introdurle per tutto il corpo docente e per il personale tecnico amministrativo. Ringrazio tutte e tutti per l'attenzione e mi auguro che le istituzioni, la regione, il governo, le aziende, chiunque sia presente qui oggi non rimangono indifferenti alle mie parole. Grazie.